Voce delle Chiese, ritorniamo in diretta, ritorniamo in diretta in questa puntata di oggi, di fine settimana e do subito il benvenuto, il bentornato, anzi, a Nicoletta Favut, nostra ospite in questa puntata Buongiorno Nicoletta, in rappresentanza della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice Ciao e bentornata Ciao Daniela, grazie mille, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano Buongiorno anche a te, allora siamo, ci abbiamo invitata e siamo curiosi di sentire quali sono un po' le proposte culturali e turistiche, insomma, che anche quest'anno il Sistema Museale Valdese propone Allora, l'estate è sempre il momento di cose che avvengono Allora, io ti ringrazio e sì, ricordo che come Fondazione Centro Culturale Valdese facciamo anche un po' da segreteria e ci occupiamo, diamo una mano al Sistema Museale Valdese che è questo insieme di piccoli musei, piccoli e medi musei che si trovano tra la Val Germanasca, la Val Chisone e la Val Pellice e anche quest'anno d'estate si attivano in maniera particolare alcuni musei non chiudono mai ma altri, siccome sono in alta montagna, nella fase invernale smettono un po' le loro attività o chiudono anche per una questione di tempo meteorologico invece in questa stagione li trovate tutti attivi, tutti aperti, tutti visitabili in vari momenti e quindi lo ricordiamo, Daniela ci li sta anche facendo vedere per chi segue il video sono 11 musei e 6 luoghi storici dall'Alta Val Germanasca all'Alta Val Pellice avete occasione di trovare diversi argomenti sia sulla storia valdese in vari contesti o in vari periodi sia sulla etnografia alpina e quindi ricostruzione di ambienti di vita e cultura alpina esatto, è una bella opportunità insomma quella di poter cogliere l'occasione magari mentre abbinate la visita in montagna in qualche luogo anche di un museo del sistema museale valdese che peraltro coglie anche l'occasione di abbinare in certi casi anche delle mostre, delle esposizioni sì esatto, allora sull'estate diciamo che dal tempo del covid che si è cominciata questa politica alcuni musei lo facevano già e però si è allargata nel momento in cui era difficile entrare e visitare i musei al chiuso si è allargata l'idea di mettere delle mostre all'aperto e questo è rimasto per cui voi troverete in diversi luoghi quest'anno saranno in particolare a Prali, a Pomaretto, a Campola Salsa quindi Massello, a Bobbio Pellice, a Rorà e a Torre Pellice che spesso sulle cancellate esterne, nei giardini per esempio ad Angrogno sarà nel cortile del Tempio del Serre o a volte in scuolette aperte per l'occasione come a Campola Salsa nel Valone di Massello lo trovate delle mostre temporanee su vari argomenti, o sulla storia valdese in generale o sulla storia dell'esilio in particolare, quest'anno ci sarà una mostra che gira tra Torre Pellice e Bobbio Pellice sul novantenario, il novantesimo anniversario del rancontro del Colle della Croce per esempio di cui penso che Daniela avrà già parlato o parlerete e quindi c'è l'occasione anche di visitare oltre ai musei all'interno delle mostre che sono all'esterno e lo trovate sul sito del Centro Culturale, trovate tutte le informazioni raccolte Sì esatto, se andate sul sito fondazionevaldese.org ci sono davvero tutti i dettagli sia per i vari luoghi, i vari musei dove sono, dove si possono appunto trovare le mostre all'aperto e poi, visto che stiamo parlando di visite, c'è un po' una novità divertente un gioco che avete pensato per quest'estate, giusto? Sì esatto, una cartolina gioco l'abbiamo chiamata Facciamo anche vedere, eccola qua, la cartolina gioco Che cos'è? È molto semplice, noi siamo appunto un sistema museale che cerca da anni di rimandarsi anche da un museo all'altro perché a volte i discorsi sono anche collegati o a volte i musei sono talmente vicini che nel giro di un giorno o di poco tempo si riesce facilmente a vederne anche due perché alcuni poi sono dei piccoli gioiellini e allora abbiamo pensato quest'anno di insistere su questa idea che uno può visitare, magari è in villeggiatura a Prali visita il museo di Prali, lo conosce perché sono anni che magari ci torna e scopre che c'è un museo a Massello ce n'è uno a Rodoretto, ce n'è uno a Bovile ce n'è uno a Pomaretto solo per rimanere in Val Germanasca ma volendo fa la gita in Val Pellice e viceversa Allora abbiamo provato a fare questa cartolina gioco qui si vede il front ma sul retro c'è un'immagine legata alla storia ai nostri musei divisa in tanti pezzettini per cui ogni museo che voi visitate ricevete un adesivo che è un pezzo di questa immagine e quindi si può giocare anche un po' le famiglie abbiamo pensato anche i bambini ma anche i residenti perché non ha scadenza per cui potete anche metterci dieci anni se volete ma anche solo in un'estate se volete rifare il turno in ogni museo che visitate troverete o vi verrà dato un pezzo di questo adesivo e potete ricomporre l'immagine e chi riesce a ricomporla poi ci scriva perché c'è una piccola sorpresa in ufficio bella, questa è una bella iniziativa molto simpatica che accompagnerà da adesso in avanti ecco le visite di questi musei inseriti nel sistema museale valdese la cartolina gioco mi raccomando si può in ogni luogo si trova si si in ogni luogo la trovate per cui viene distribuita bene, potete iniziare da qualsiasi parte ah si assolutamente non c'è un ordine non c'è un ordine bene e legato sempre al sistema museale valdese beh insomma c'è non possiamo dimenticare le passeggiate che è un altro appuntamento storico che ogni anno ricordiamo e che vogliono raccontare sì il museo ma anche il territorio che lo ospita allora è davvero storico perché abbiamo guardato un attimo abbiamo rifatto la storia di queste passeggiate questo è il ventitresimo anno che i musei la organizzano senza interruzioni faremo poi un articolo su questo io penso perché è interessante vedere come sono cambiate quali sono state le passeggiate più fatte e la media però anche lì i volontari dei musei coloro che si occupano di questi piccoli presidi museali a turno d'estate si rendono disponibili a visitare il museo fuori dal museo cioè cosa c'è sul territorio che circonda il museo a volte spingendosi anche un po' più lontano in base alle conoscenze che i volontari hanno che ci può raccontare direttamente attraverso la passeggiata vedendo dei luoghi che magari sono super conosciuti o un po' dimenticati collegandoli alle storie che poi questo complesso museale ci racconta e anche quest'anno torna con allora non le ho neanche contate 6 passeggiate da luglio a settembre si inizia sabato 22 luglio la prima passeggiata sarà in Val Chisone poi si proseguirà con Angrogna il 30 luglio il 2 agosto sarà Bobbio Pellice di nuovo a Bobbio Pellice il 9 agosto Arorà il 2 settembre e infine a Pinasca sabato 9 settembre esatto ognuna con la sua particolarità ognuna con la sua particolarità su ogni passeggiata stiamo completando gli ultimi dettagli quindi troverete una locandina specifica che vi ricorda un po' il grado di difficoltà l'orario ovviamente il luogo di partenza le tappe del percorso per cui chi conosce un po' il territorio può anche rendersi conto per esempio quella in Val Chisone che è la prima ed è organizzata dal Museo delle Diaconesse di Bovile toccherà per esempio le borgate di Pecherelle per chi conosce quella zona della Val Chisone e ce ne sono alcune che saranno solo pomeridiane anche un po' più semplici come quella di Angrogna nelle borgate dove ha la caccia delle scuolette o quella di Bobbio che invece sull'itinerario storico del podio saranno solo di mezza giornata e un po' più semplici ce ne saranno le altre sono di una giornata intera con alcune un po' più complesse come quella di Rorà che mi hanno segnalato essere già per escursionisti esperti allora su ogni locandina metteremo i dettagli ricordo che le passeggiate sono tutte gratuite perché sono fatte volontariamente dai musei nell'idea di raccontare il proprio contenuto ma all'esterno certo sono sempre passeggiate in montagna quindi insomma chi partecipa si attrezzi a dovere e bisogna prenotare anche perché così ci si rende conto di quante persone sono iscritte insomma per i vari gruppi che saranno presenti e ci si potrà magari anche poi confrontare in caso di maltempo di insomma situazione da valutare in itinere sì noi lo consigliamo sempre perché ci aiuta un po' a capire quante persone potrebbero partecipare un po' possiamo anche confrontarci con chi prenota per eventualmente dare ancora qualche consiglio perché come giustamente ricordavi tu sono passeggiate comunque su sentieri o in montagna per cui chi conosce bene questo tema sa che una giacca a vento non deve mai mancare che le scarpe adatte sono fondamentali anche per la passeggiata che sembra più semplice si cammina meglio ci si diverte di più e in molti casi si chiede anche di portarsi il pranzo perché non è detto che ci sia o comunque qualcosa che può dare sostegno in caso di sete o di fame quindi comunque consigliamo di telefonare in ufficio ci fa sempre piacere vi possiamo raccontare qualcosa in più e possiamo effettivamente anche segnarci un recapito nel caso ci fosse da annullare all'ultimo per qualsiasi motivo se le previsioni del tempo sono molto brutte a volte succede che si rimandi certo quindi si può avvisare senza far arrivare le persone sul posto si può telefonare alla fondazione centro culturale valdese di Torrebellice sempre al nostro ufficio noi facciamo come ufficio il barba da anni la segreteria organizzativa di tutte queste iniziative dei musei in modo che ci sia un orario e un telefono e sempre qualcuno che può rispondere poi al massimo contattiamo i singoli volontari per avere i dettagli ma potete sempre rivolgervi al telefono dell'ufficio che è 0 121 95 0203 oppure alla mail che è il.barba chiocciola fondazionevaldese valdese.org tutte le informazioni ripetiamo le trovate sul sito fondazionevaldese.org bene abbiamo direi ricordato tutto l'apertura dei musei del sistema museale valdese nella stagione estiva la possibilità di fare queste belle passeggiate all'aperto e poi la possibilità anche di giocare con questa cartolina e i vari tasselli che troverete nelle visite dei vari musei c'è qualcosa altro da aggiungere? io invito sempre volentieri a riesplorare questi piccoli musei sia da parte di persone che magari vengono in villeggiatura e ne scoprono sempre un pezzo nuovo ma anche da parte dei residenti perché i musei non stanno mai fermi sono degli enti viventi quindi hanno sempre un po' di modifiche alcuni possono essere cambiati tanto da quando li avete visitati se ci sono dei bambini di mezzo ci sono sempre dei luoghi che portano anche a dei giochi e delle attività che sono di interessante scoperta e volendo anche qui se ci sono dei piccoli gruppetti quello che possiamo anche consigliare è delle visite guidate perché in certi casi è anche bello il confronto e l'incontro è sempre possibile senz'altro basta telefonare prima un minimo è sempre possibile però è anche sempre bello l'incontro perché diventa un'occasione due ore in cui si chiacchiera ci si scambia anche delle domande o informazioni vicendevoli insomma si scopre un pezzo di più di queste vallate scusate la mia tosse continua e io saluto Nicoletta che è stata con noi grazie ancora buona visita a tutti voi mi raccomando partecipate a queste proposte che il museo non solo la fondazione museo centro culturale valdese di Torrebelli ce fa ma anche il sistema museale valdese e tutto il gruppo di volontari e volontarie che lo portano avanti lo gestiscono quindi passeggiate storiche musei aperti per quest'estate 2023 grazie a Nicoletta Favutta e buona continuazione delle vostre attività grazie grazie a tutti voi